Ciao ragazzi qui Nico dal canale Bluefire e oggi vi porto un altro video di Agario Finalmente come mi hanno chiesto gli iscritti ho installato la tastiera Emoji E come sapete ragazzi ci sono su Agario delle varie skin tipo la luna, marte e cose del genere Ma oltre a quello ci sono questi simboli strani che potete utilizzare come personaggi, come skin Oh mio dio! Un colpo di lag enorme E niente come potete usare questi personaggi per poi dividervi, ingrandirvi e cose del genere Tipo io adesso sto utilizzando i big money per fare un sacco di big money enorme E quello è Barack Obama ma a quanto pare i big money ci portano su figa Quindi lo cambiamo subito e prima ho preparato una bellissima combo Non l'ha salvata Perfetto Play Ossia il gattino col cuore Che è una cosa spettacolare, nessuno vuole mangiare un gattino col cuore E niente, apriamo la leaderboard E speriamo di arrivare in cima E oggi non ho tantissimo tempo ragazzi Vi dico anche che sto male, ho la febbre Ma da dove si è diviso per prendermi? Diamo ogni una seconda chance Bye E comunque sto male, ho avuto la febbre tutto Siamo a luglio Siamo a metà luglio più o meno Ho avuto una febbre Non so come mi è arrivata la febbre Perché non ho idea Comunque ho avuto la febbre a metà luglio E attualmente ho 37 gradi di febbre Cioè non è proprio, mi sto riprendendo Quindi sto un po' meglio E quindi è così E quindi io ho detto perché non gioco ad agario E mi faccio venire ansia già da subito Ok ho preparato un po' di skin comunque Giusto Perché oggi ho fatto il video tre volte ed è crashato Ma penso per il mio channel, non per il gioco di agario E yes Uh le croci, Obama Quando appena spawnate nella versione da cellulare E' molto più difficile rimanere qualche secondo in più Cioè vi spawnchilano subito appena anche nascete Mentre invece da pc Appena spawnate è un po' più facile rimanere in vita Per i primi secondi Perché non vi spawnchilano Per il video da una parte è buono qua Perché riduce abbastanza il lag generale Visto che c'è tanta utenza che gioca E molto spesso I giocatori giganti Vanno a finire AFK Un iscritto mi ha chiesto di usare Mars Ok vai Quindi useremo la skin di Marte Ok l'ultima volta che ho usato un consiglio di un iscritto ci ha portato veramente fortuna Quindi vediamo oggi come ci va Boom Oh che figo quello Sembrano i fantasmi di Pacman E' incredibile E niente comunque se la mia voce è strana Comunque è leggermente diversa Non è che non sono io E' semplicemente che sono stato male Ok è tutto lì Via via dall'alto Allora dobbiamo usare la tattica della divisione Questo qui è in mille pezzi A nostro vantaggio Ok quello lì di sicuro avrà come target quell'altro Wow no 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 Ok 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 Ottimo direi Allora questo penso sia un'area sicura Di sicuro ci sarà Un grande scontro secondo me dalla parte destra dello schermo Allora il primo è team Vuol dire che secondo me Secondo me si può fare team qua in qualche modo Non ho trovato il modo Cioè perché Non lo so Non lo so Comunque mi chiedo perché Perché tipo Nelle top delle leaderboard ogni volta che ho giocato C'è sempre qualcuno tipo che ha il nome di un paese Ma non solo oggi O alla MK che mi ha ucciso Salutiamo il grande MK Se sarà veramente lui chi lo sa Agario che si riapre Ok Agario Dai Agario Ce la puoi fare Chissà perché si è chiuso Allora Un altro che non ho fatto ancora vedere Penso che sia Origin 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 Scritto male Scritto male Magari lo scrivo bene Origin Vai Ok Chissà se ce la farò mai Riapriamo la leaderboard Ecco adesso che ho riavviato il gioco ragazzi la leaderboard è diversa Quindi sostanzialmente ho cambiato server Non c'è Cioè è molto improbabile che Che io da Essendo prima in quel server Adesso in un altro Che rabbia Allora utilizzerò un ultimo emoji Arrivo fratello La mia pasta è pronta Utilizzerò un ultimo emoji Tipo Questa E faremo play Dopodiché scappo a mangiare Perché è pronto E dopo devo andare al lavoro Oh Quindi Oh 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 Quindi Ok Riapriamo lo scoreboard Ogni volta Troppo forte questa faccia Guarda quanti splitter Tutti vicini Spero ragazzi che introducano anche la nuova modalità The Hunger Game Per Per cellulare Sarebbe veramente bello Ossia Fino all'ultimo Sopravvissuto E Niente Spero che la introducano Perché sembra veramente figo Cioè ce ne sono due o tre modalità belle Che mi piacerebbe vedere E Senti ok Stiamo qua vicino agli splitter Ok Turchia si dirige in basso Io sto Nell'area centrale Così non mi sponchillano E ho lavato la spacca Ho lavato la spacca Oh Turchia È appena esploso In maniera gigantesca Io come non ho fatto prenderlo Non lo so Oh no No Questa qui Ho sparato la massa Invece di O di dividermi O mi son diviso No mi son diviso Sicuramente O doge è stato catturato E Vabbè Mi riunirò Adesso siamo Due palle sorridenti Il che Non è neanche troppo male Mi spiace di aver mancato Turchia Era un sacco di massa lì Perché tutto questo gioco È un gioco di masse Ok Unisci Ok 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 Good job Siamo tornati in gioco Con 150 Split Per questo EA A quanto pare Non è una cattiva idea Dividersi anche Con queste dimensioni Ok No 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 prendilo 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 Ah è furbo Mi ha fregato No E va bene ragazzi Mi ha fregato Spero che Allora Agario con le emoji Vi sia piaciuto Se avete suggerimenti Su altro Su Agario Lasciatemi un vostro commento Un mi piace Come sempre E ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti